Cosa ci vuole per riformare la giustizia in Italia? Perché la giustizia funzioni secondo me sono necessari interventi in quattro settori separati. È necessario in primo luogo riformare tanto delle regole che riguardano la giustizia, questo è il compito del Parlamento. È necessario poi che ai magistrati siano forniti i mezzi adeguati perché possono fare il loro lavoro e quando penso ai mezzi non penso alle fotocopiatrici, a queste cose, ma penso per esempio all'ufficio del giudice. Il giudice dovrebbe avere la possibilità di essere adiuvato da chi gli cerca la giurisprudenza, da chi gli prepara le carte e così via. Il terzo argomento riguarda l'organizzazione. I mezzi sono di competenza del governo, mentre l'organizzazione è di competenza della magistratura stessa. Purtroppo, molto spesso, gli uffici giudiziari non sono organizzati sufficientemente e la mancanza di organizzazione fa sì che se ne vada tanto tempo inutilmente. Il quarto argomento secondo me riguarda il numero degli avvocati. Nel solo Lazio ci sono tanti avvocati quanti ce n'è in tutta la Francia. Forse un numero così elevato di avvocati naturalmente aumenta il contenzioso. Però, secondo me, l'argomento vero è quello della cultura. Finché gli italiani saranno così disposti a trasladire, tutte le volte che credono che vada meglio, non osservare le regole e sarà poi necessario un intervento veramente su scala immensa da parte della magistratura e quindi necessariamente la giustizia, se si ingolfa, è destinata a non poter funzionare adeguatamente. È necessario cioè che cambi la relazione che esiste tra i cittadini e le regole, che i cittadini capiscano il perché delle regole, perché della nostra Costituzione, che la conoscano finalmente i cittadini perché è un po' un'illustre sconosciuta la Costituzione in Italia e capiscano come sia importante, perché si possa vivere serenamente, perché si possa star meglio alle regole della Costituzione adeguarsi.